Oggi abbiamo la riunione degli Stati Generali delle Carine di Commercio sull'economia del mare che capita in un momento decisivo, abbiamo chiamato a raccolta il sistema camerale, gli stakeholder e le associazioni, dobbiamo contribuire, avere una visione unitaria sulla nuova nazione marittima, caritaria, ricoprire quella centralità, quel fatto che noi siamo l'Italia come pontile del Mediterraneo, ma non soltanto in termini geografici, ma deve essere anche in termini sociali e politici.